Un classico della magia, un mazzo di carte, un pennaremi, scegli una carta e firmala, quello che vuoi. Ah, io non guardo. Ok, questo è il mio. Mettila pure qui. Andiamo a chiudere il mazzo, alzarlo. E adesso, la cosa è molto semplice, guarda. Mi dovrai dare da una a tre possibilità, quelle che tu vuoi, per trovare la tua carta, ok? Questo, ti ammoccio qua qui. Se ci riuscirò, bene, se non ci riuscirò, ti darò un piccolo indirizzo per il distoglio, ok? Quante possibilità mi dai? Due possibilità. Due. Ah, generoso. Ok. La tua carta, lì. E guardo qui, per faccio prima, forse è meglio. No, so dare che c'è la firma. No, dovrebbe essere questa. Vediamo un po'. La firma ce l'hai messa? Sì. No, non è questa. No. Seconda possibilità, non tre, è due. Questa. Eh. No. Manca la firma. No, per forza. Poi avevo l'indirizzo. Allora, qua ho messo il mio portafoglio qui, nella taschina. Vediamo subito quanto ho messo, adesso non mi ricordo quanto ho messo stamattina. Ho detto, voglio fare un gioco. La stefano. Aspita. Qui c'è una carta. Che cosa dici tu? Sei di fiori. Che sei di fiori. Che stai rimanendo. Che stai rimanendo. Che stai rimanendo.